No ma non c'erano, non c'erano. ci troviamo qui 15 novembre 2013 ci siamo a Cassano Ionio c'è il dottor Ivan Pastore che sta, come vedete un po' pensieroso, ma noi siamo sempre presenti, ogni presente diciamo, mettiamo su parte il dottor Pastore, passiamo su altri soggetti c'è il dottor Rugna qua che sembra sembra un po' entreotti, buon anno guardate un po' l'altro guardate che faccia che c'è questo qui è l'esimio rappresentante del meetup di Corigliano, non mi ricordo mai Giulio, Giorgio? Giorgio Culti Giorgio Culti, questo come si chiama? Giorgio, Giorgio Culti nome e cognome? Giorgio Cioppetti ah, i due Cioppetti a chi chiamavano? il suo di Cosenza quante ce ne siete di Cosenza stasera? Corigliano per un regione di Cosenza ah, va bene, questo è Porigliano questo è por di Corigliano Corigliano la televisione, la telecamera lì è? la telecamera dov'è? è come no no si deve documentare tutto questo è gravissimo va bene qua c'è l'altro amico di Cassano fa pure che è sempre presente la battiglia e altri e qua ci sono gli amici c'è il mio amico Santecamo gli amici Arberci di Delzano uno è Francesco gli altri sono l'altro è il mio amico è Lorenzo Cannataro molto mi presente tu stai registrando tutto tu, perché non scappa venti? non scappa niente no, sono parlato di Calarico no, va bene non ho po' quello non ti ho sentito niente tranquillo ha potuto firmare la canna per il mio amico 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 e l'altro due amici di Spezzano che ci hanno fatto compagnia Marcello è impegnato in una relazione che credo sia importantissima Mimmo in una relazione non mi dalle sarebbe tre posi una pelle ci sono cose queste domande due metodi un po' tipo nonnesco che non ha trovato altra erna non ha trovato gente per una relazione come intervenire la notte guarda per challhi conihin tutto ora troppo facciamo Grazie. In totale siamo circa una quarantina di persone ben contate.